Parallelamente con l'avvio della raccolta differenziata, l'amministrazione comunale di Leporano sta realizzando interventi di bonifica in varie zone del territorio. Inoltre si stanno effettuando controlli anche tra i rifiuti abbandonati, proprio al fine di trovare informazioni utili per risalire all'identità degli incivili che evidentemente ritengono di trasformare il territorio in discariche a cielo aperto. L'amministrazione comunale rivolge l'appello ai cittadini di denunciare alla polizia locale i trasgressori fornendo informazioni, foto o video atti ad incastrarli. Si ricorda poi che gli operatori ecologici possono etichettare il rifiuto come non conforme e dopo tre violazioni scatta la sanzione. Amate l'ambiente e la natura è il messaggio che il sindaco Damiano e l'amministrazione comunale tutta rivolgono a residenti e non. Leporano ce la farà. Leporano ce la farà.